Gli oggetti non si muovono Il mio dentino si fa Ma è possibile fare? Gli oggetti non si muovono Il mio dentino si Davvero? Ti mi hai dato un'idea Sì, anche a me Allora, che cosa si fa? Bisognava attraversare il paese Fatto! Era necessario oltrepassare la montagna Fatto! Quindi adesso dove andiamo? Grazie!